A distanza di dieci giorni dall'elezione a Sindaco, Alessandro Betta ha formato la squadra di governo. Allora Sindaco, ce l'abbiamo fatta? Sì, questa notte con la maggioranza abbiamo chiuso. Il Vice Sindaco sarà Stefano Bresciani, le deleghe saranno quelle che riguardano il mondo del lavoro, economia, cooperazione, la delega che riguarda anche la viabilità, la mobilità, quindi quello che è stato il tema del piano urbano della mobilità, poi una delega particolare che riguarda sia i rapporti con le partecipate nostre, che sono le farmacie principali, ma i grandi volumi soprattutto, quello che è il recupero e la loro valorizzazione. Si pensa a cui si sana, Villa Elena, anche Sanaclero che è di proprietà della provincia, però di impegnarsi sui nostri grandi volumi. Poi Silvia Girelli per Arco Bene Comune, a cui sarà affidato quello che sono le politiche sociali, quindi politiche giovanili e tutto quello che riguarda la socialità, in aggiunta alle politiche ambientali e quindi vengono legate a quelle delle politiche della certificazione del comune di Arco e quindi si pensa ad Emas, ma per andare anche oltre. Poi abbiamo Maria Luisa Tavernini per il Partito Democratico, con cui saranno affidate le deleghe di sport, turismo e la parte che riguarda la comunicazione, quindi a partire dal nostro urbano all'arrivare al giornalino comunale. Abbiamo il Tommaso Ricci, che è l'assessore alle finanze, che viene confermato nelle sue deleghe con l'aggiunta dell'informatizzazione, quindi di mantenere tutto legato dal punto di vista informatico, visto che è un comparto fondamentale. Se si pensa a Gestel, a tutto il sistema che è stato messo insieme, ma l'informatizzazione era giusto che venisse assorbita dall'assessorato che ha in mano il bilancio e quindi le finanze comunali. Infine Stefano Miori, che avrà l'assessorato alla cultura, all'urbanistica e questa è una scelta particolare di associare cultura urbanistica, perché il nostro territorio necessita di avere un'attenzione particolare, quindi la cultura del nostro territorio. Poi avrà la partecipazione, che sarà uno dei perni fondanti di questa amministrazione, a cui dovranno relazionarsi tutti i nostri assessori, quindi partecipazione e rapporti con le frazioni. Questi sono gli assessorati come stati divisi. L'ultimo inciso a Stefano Miori è stata data anche l'istruzione, quindi la scuola. Poi abbiamo fatto una scelta particolare di tenere una delega, una delega per assegnare a questa delega a un consiglio comunale, che sarà Roberto Zampiccoli. Zampiccoli. La delega che verrà assegnata è la delega che riguarda tutto quello che è il mondo del castello, quindi la valorizzazione del castello di Arco e questo legandolo all'olivaia e al mondo dell'agricoltura. Tanto è vero che l'agricoltura, visto che adesso parliamo di deleghe del sindaco, me la sono mantenuta come sindaco, ho tenuto poi i lavori pubblici, che è quello che sostanzialmente avevo prima, quindi idilizia scolastica, idilizia privata, i rapporti istituzionali e quindi questa è la squadra di giunta. Poi faremo una proposta al consiglio comunale, abbiamo ragionato anche sul presidente del consiglio e la proposta della nostra maggioranza sarà quella di proporre al consiglio Mauro Ottobre. Allora diamo appuntamento agli arcensi e al prossimo consiglio comunale. Sì, diamo appuntamento a lunedì, non in sala consigliare, ma abbiamo deciso il salone delle feste, visto se ci dovessero essere più cittadini che vorranno vedere avvenire il primo consiglio comunale e poi magari ci seguiranno anche durante l'intera legislatura. Grazie.